Belen Rodriguez lascia l'Italia per lavoro, l'annuncio Belen raggiunge i 6 milioni di fan e lascia l'Italia, il motivo Belen Rodriguez, da poco tornata in Italia dalla sua vacanza a Ibiza per le registrazioni di Tussi Q e Vales, ha lasciato di nuovo e momentaneamente l'Italia per motivi di lavoro Ad annunciarlo è stata la showgirl stessa, la quale, dopo aver postato su Instagram una suo scatto veramente sensuale, ha scritto le seguenti parole Belen ha innanzitutto augurato la buona serata a tutti, poiché ha caricato la foto ieri sera, ma ha sottolineato che dove alloggia attualmente è mattino Insomma, dove si trova la bella conduttrice di Tussi Q e Vales? Belen Rodriguez non ha voluto rivelare nulla, ma ha spiegato che è partita poche ore fa dall'Italia per realizzare un sogno bellissimo che per ora non può raccontare Ma che presto svelerà? Di cosa potrà mai trattarsi? Si potrebbe trattare di un lavoro come indossatrice per un famoso brand straniero, oppure le è stato proposto di lavorare in televisione in un altro paese? Belen ha poi concluso, ringraziando tutti i suoi fan per il traguardo raggiunto recentemente Belen Rodriguez stupisce tutti, sono partita per realizzare un sogno. Belen ha infatti affermato che il suo successo lo deve principalmente ai suoi followers, che non l'hanno mai abbandonata Inoltre, ha dichiarato che in quel momento che ha scritto quelle cose ha chiuso gli occhi, ed è stato come se li chiudesse insieme a loro Infatti, come specificato da Belen Rodriguez, ormai lei si sente al cento italiana, in quanto ormai da anni il nostro paese l'ha adottata Il sangue che scorre nelle sue vene è ormai tutto italiano. Infine, ha palesato che festeggia insieme ai suoi fan i 6 milioni di followers su Instagram e brinda insieme a loro questo suo nuovo lavoro Belen tornerà comunque presto in tv in prima serata su Canale 5, con la conduzione di Tusicu e Vales, le cui puntate dovrebbero essere state già tutte registrate Grazie per la visione